Ciao e benvenuti su Scambio Figurine. Oggi vi voglio presentare una nuova funzionalità per rendere la gestione delle vostre conversazioni e dei vostri scambi più efficace. Nella lista dei messaggi avrete tutte le vostre conversazioni. Avrete la possibilità di cliccare sulla singola conversazione e assennargli un tag, una categoria, un'etichetta, in modo tale che la possiate individuare più facilmente. Cliccando potete scorrere tutte le categorie che sono state introdotte sul sito, quindi ad esempio figurine spedite, in attesa di figurine, in attesa di risposta o un generico messaggio in evidenza. Come avrete notato, ad ogni categoria è associato un colore, così che anche visivamente avete più facilità nel riconoscere il tipo di conversazione. Quando tornate sulla lista dei messaggi, la conversazione avrà appunto l'etichetta figurine spedite in questo caso. Se andiamo su un'altra, possiamo ad esempio assegnare una nuova categoria tipo in attesa di risposta e così per tutti i messaggi che riceverete. Ovviamente queste categorie sono selezionabili tramite questa tendina, quindi se volete vedere tutte le conversazioni che hanno come etichetta, ad esempio, in attesa di risposta, le andate a selezionare e vedrete solo quelle, così come per tutte le altre categorie. Qualora non abbiate più bisogno di avere l'etichetta per quella conversazione, potete entrare nella discussione, nella conversazione e andare a scegliere nessun tag selezionato. Tornando fuori, infatti, avrete la conversazione che non ha più l'etichetta assegnata. Bene, spero che questa nuova funzionalità vi piaccia e avanti con le prossime. Ciao e a presto!